Nel buio estremo che si trova dietro le pareti e i corpi abbracciati nella notte, nel buio che solo percepisce la mente e solo possono vedere gli occhi dei morti e di quelli che sognano, nel buio estremo che si trova dietro alle pupille dell'occhio e dall'altro lato della finestra, lì faremo la nostra casa.